La Puglia ha superato quota 7 milioni di dosi di vaccino anti-covid-19 somministrate, in media oltre mezzo milione di dosi al mese, con picchi a fine primavera e inizio estate, gestiti dal personale del Servizio Sanitario Regionale e della Protezione Civile. L'ultimo report del Ministero della Salute attesta a 7.021.219 il numero di somministrazioni effettuate dall'inizio della campagna vaccinale. 3.140.109 persone hanno completato il primo ciclo vaccinale, pari all'87,91% della popolazione over 12. Il 93,1% dei pugliesi dai 50 anni in su ha completato il primo ciclo vaccinale. 869.166 persone hanno già ricevuto la terza dose di richiamo. Nelle ultime 24 ore nella ASL di Bari sono stati somministrati 12.700 vaccini, mentre in meno di 36 ore ci sono stati 14.650 richiami, 2.020 seconde dosi e 562 prime dosi. La campagna vaccinale anti-covid sale ancora di intensità, in particolare per i richiami che salgono sino a 257.000. Parallelamente cresce la copertura con dose booster, assicurata agli over 18 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 5 mesi, il 47,6% in tutta l'area metropolitana e il 53,2% nella città di Bari. Il picco massimo si raggiunge tra gli over 80 che hanno superato il 70% di copertura booster in tutta la provincia e nella sola Bari toccano il 73,7%. Anche la copertura per gli operatori sanitari è ottima, il policlinico raggiunge quota 22.188 somministrazioni di terze dosi. Sono in tutto 7.221 i soggetti vulnerabili che hanno ricevuto la terza dose necessaria a completare il ciclo vaccinale e 2.117 i rispettivi caregiver a cui è stato somministrato il booster.